Eccoci qui, abbiamo il piacere e l'onore di avere nostra ospite Lidia Maximovic, nasce Louis Mila, nasce in Bielorussia e aveva tre anni quando sua mamma, con la mamma, venne catturata dai nazisti, la mamma era una partigiana, era un'antinazista, un'antifascista, viene catturata dai nazisti e viene portata ad Auschwitz, Birkenau e finisce dritta dritta questa bella bambina nel cosiddetto kinderblock, cos'era il kinderblock? Era la baracca dove il dottor Mengele, tristemente famoso per i suoi esperimenti medici, compiva i propri esperimenti sui bambini e Lidia era uno di quei bambini. Grazie per essere con noi innanzitutto, eccolo qui, questo era Mengele, che cosa ricordi del momento in cui sei stata presa e poi sei parata da tua mamma? Hai scritto un libro che ha un titolo molto bello, che si intitola La bambina che non sapeva odiare, avverti il dovere della testimonianza e noi ti ringraziamo per essere qui con noi la prefazione di Papa Francesco che domani ti riceverà in Vaticano. Sarai all'udienza appunto con Papa Francesco. Io sono molto felice di poter incontrarvi tutti qui per parlare a tanti italiani perché ho proprio questa opportunità eccezionale sia di promuovere questo libro che racconta le mie esperienze che penso siano interessanti. Quando, sicuramente interessanti e sicuramente abbiamo il dovere della memoria, ci avviciniamo alla giornata della memoria, ricordi qualcosa? Allora ovviamente tu bambina venivi presa e addormentata, no? Che cosa ricordi? Qual è la testimonianza più forte che ci puoi riportare del periodo in cui hai vissuto a Birken Auschwitz? Era il dicembre del 1943, tua mamma aveva 22 anni e tu ne avevi tre. Io all'epoca ovviamente non mi rendevo conto di dove mi trovavo e quale sorte mi sarebbe stata capitata. Ero troppo piccola per ricordarmi di tutto questo e da queste esperienze vissute ad Auschwitz mi ricordo alcuni effetti e alcuni flash perché come piccola bambina non posso raccontare ciò che succedeva lì, ma col tempo ho sentito molti racconti, molti racconti di sopravvissuti, di entrambe le mie mamme che mi hanno raccontato com'ero. Ho letto anche molti libri scritti dalle persone sopravvissute che raccontavano la loro realtà, quindi tutto ciò mi ha impressionato moltissimo. La nostra Giovanna Savini ha riassunto la storia che trovate in questo libro, la storia di Lidia. E' il 26 maggio scorso, Papa Francesco durante l'udienza generale si china per baciare il numero 70 072 impresso sul braccio di una signora dei capelli bianchi e il tatuaggio che ha da quando aveva appena tre anni e fu deportata con la mamma nel lager di Auschwitz-Birkenau. Polacca di origini bielorusse, Lidia Maximowicz non era ebrea. Sua madre, una ragazza cattolica con una figlia piccola, aveva deciso sin dai primi momenti di opporsi alla barbarie nazista, aderendo alla resistenza bielorussa e finendo quindi in un campo di concentramento. La sua bambina, destinata a diventare una cavia nelle mani del dottor Mengel, conosciuto come l'angelo della morte, riuscì a resistere in quell'inferno per 13 mesi, separata da subito dalla madre che le disse un giorno ti verrò a prendere. Nel gennaio del 1945 Lidia uscì dall'orrore mano per la mano di una donna polacca senza figli che decise di adottarla, convinta che sua madre fosse diventata uno dei tanti cadaveri ammassati in quel campo. Non avrebbe mai immaginato che un giorno di tanti anni dopo, nel 1962, qualcuno bussasse alla sua porta. Sua madre era viva e non aveva mai smesso di cercarla, ad immortalare il loro primo abbraccio simile ad un film, i fotoreporter e le autorità dell'Unione Sovietica consapevoli dell'unicità di quel momento. Che effetto ti fa rivederti nell'abbraccio con la mamma che hai dovuto lasciare, con la tua mamma naturale, per il fatto che lei venne fatta partire verso Bergen-Belsen, tua mamma e tu sei rimasta nel campo, liberato poi dalle truppe sovietiche, ricordiamolo. Sì, io devo dire che al primo momento, quando dalla croce rossa di Hamburgo ho saputo che mia madre era ancora in vita, ero molto sorpresa e molto preoccupata, non riuscivo a capire perché non mi aveva cercata, ma avrebbe dovuto sapere di aver lasciato una bambina piccola nel campo. Non riuscivo a capirlo, ma questi erano i tempi. So perché a causa della cortina di ferro non era possibile far passare delle informazioni dall'est all'ovest, nonostante mia mamma naturale avesse scritto tantissimo alla croce rossa di Mosca, dalla quale riceveva delle risposte negative. La bambina con questo numero, con questo tatuaggio non c'è da nessuna parte. Io come bambina devo dire che venivo trattata in una maniera sarcastica, perché una bambina così piccola non poteva essere trattata come un prigioniero politico. 70072, quando guardi quel tatuaggio, che sappiamo che era il tatuaggio che i nazisti imprimevano sulla pelle dei deportati. Tu sei cattolica, gli ebrei sono stati massacrati, uccisi nei forni crematori in milioni. Ecco, quando guardi quel tatuaggio, prevale di più la speranza, c'è la consapevolezza di avercela fatta o la disperazione per quello che l'uomo è stato capace di fare e di farti. Tutto questo messo insieme si mescola nella mia mente, perché la domanda perché c'è stato tanto odio tra uomini, tanto più che è stato un odio inflitto da un popolo considerato molto civilizzato, che ha avuto tanti compositori, poeti, scrittori, filosofi, ma nonostante tutto ciò i rappresentanti di questo popolo riuscivano a trucidare i bambini facendoli persino appendere. In questo posto, ad Auschwitz, morivano non solo ebrei, ma anche polacchi e tante persone di altre nazionalità. Io sono stata un esempio perché sono stata portata ad Auschwitz con un trasporto di circa mille persone di diversissime nazionalità e non ebrei. Lei scrive, tu scrivi, di non tutti gli abusi subiti ho piena coscienza, eppure ci sono stati. Sono nel mio inconscio, i bambini in magazzina, una volta nascondono, altre volte si confondono, ma non dimentico. Quando dormivi nelle baracche, quando tornavi da quelle baracche e tu scrivi che impiegavi tre giorni a riprenderti quando Mengele, nei suoi esperimenti, ma in che cosa consistevano? Tu non ne hai assolutamente memoria? Che cosa hai ricostruito? Io non potevo sapere che cosa facevano di me, perché non ero conscia, ero troppo piccola, quindi vedevo solo gli effetti di questi esperimenti. Quindi quando arrivavo di ritorno nella baracca, io sentivo il mio corpo dopo i vari esperimenti medici, le vaccinazioni che mi infliggevano, ma ogni mattina io comunque dovevo partecipare all'appello, perché c'era la dirigente della baracca che doveva verificare tutti i numeri tatuati dei bambini. E ogni mattina mancava qualche numero, mancava proprio perché i bambini morivano ogni notte. Noi lo abbiamo visto e abbiamo guardato come venivano tirati fuori da queste baracche i corpicini di questi bambini, come venivano buttati su un carro che poi veniva trascinato al forno crematorio. Vorrei anche sottolineare che non tutti riuscivano a tornare alla baracca dopo essere stato presso il laboratorio di Mengele, perché una parte dei bambini venivano trucidati con un vaccinazione di fenolo e poi i loro scheletri venivano puliti, ripuliti e predisposti ad altri esperimenti. Il silenzio è l'unica possibilità che ho per sopravvivere. Quando un bambino al mio fianco rantola nel buio della notte e di colpo muore, quando le pulce e le zecche mi attaccano, quando le SS vengono a prelevarmi per portarmi da Mengele, è un silenzio in cui tento di scomparire per non morire. È tornato nei tuoi ricordi da adulta, nei sogni, negli incubi, quello che è passato? Sì, ritornano purtroppo, ritornano la notte e mi ritornano non come una storia, ma per esempio ricordo questi stivali tirati a lucido di Mengele che io riuscivo a scorgere da sotto l'ultimo tavolato, l'ultimo giacciglio. Io cercavo di chiudermi in me stessa, di chiudere anche gli occhi, perché ero convinta che quando avrei chiuso gli occhi nessuno riuscirà a vedermi, a scorgermi, a tirarmi fuori. È proprio una storia di un'ingenuità da bambina. Di un'ingenuità e anche dell'orrore di infliggere un dolore e una sofferenza simile a una bimba. È qualcosa di assolutamente incomprensibile, ma che dobbiamo continuare a raccontare perché non si può soltanto condannare, bisogna anche ricordare quello che è successo. Dopo tutto questo, come hai fatto a non odiare? Io non ho l'odio, non sento l'odio, perché qualora io odiassi, qualora diventassi acida, non avrei potuto vivere. Questo sarebbe stato ancora peggio per me che odiare queste persone che mi hanno fatto tanto male. Ecco, poi hai vissuto questa adozione, per così dire, da parte di questa che tu consideri anche una mamma e hai avuto però il riavvicinamento con la tua mamma naturale. Quanto ti ha curato l'amore di due figure così importanti nella tua vita? Penso che entrambe le mie mamme mi hanno amato moltissimo. Una, perché mi aveva dato la sua bontà, perché per una necessità del cuore ha preso questo piccolo scheletro trovato ad Auschwitz e si è presa cura di me e quindi è veramente, le è costato moltissime difficoltà per portarmi ad uno stato di essere umano. Io ero un piccolo selvaggio, non conoscevo gli oggetti di vita quotidiana, tutto era nuovo di me. Quindi un letto normale, un bagno normale, per me erano le cose assolutamente inconcepibili all'inizio. Quest'amore ti ha salvato oppure ti sei salvata con la consapevolezza che odiare sarebbe stato, come dire, come un favore che tu facevi ai tuoi carnefici? Non erano degni neanche del tuo odio? Io penso che tutto ciò è stato un doppio gioco in qualche maniera, in due sensi. Mia madre adottiva che mi ha adottata, io veramente l'ammiro moltissimo, ammiro moltissimo il suo coraggio, perché sapeva che cosa, quanto difficile sarebbe stato. E ciò nonostante con il suo grandissimo cuore si è preso cura di questa piccola prigioniera, perché sapeva benissimo da dove mi veniva a prendere. Per molto tempo veniva a casa un medico tutti i giorni che insegnava a questa mia madre adottiva come prendersi cura di una bambina che ha vissuto tutto ciò che io avevo vissuto. C'è Samy Modiano, che è un uomo che amiamo moltissimo, arrivò nell'agosto del 44 sempre a Birkenau, fu bene, si salvò e da allora anche lui, come te in Italia, testimonia l'orrore della Shoah, lo vediamo, perché ti manda ora un saluto e lo ringraziamo per questo. E' stato un grande piacere per me di incontrare la signora Lidia, come sopravvissuta dei campi di esterminio, e di averla anche potuto abbracciare, perché ci siamo conosciuti per caso e questo incontro è stato bellissimo perché insieme con lei abbiamo passato gli stessi momenti di dolore e di sofferenza. ho capito che anche lei ha preso questa missione che è come sopravvissuta di fare in modo che non si dimentichino quello che abbiamo visto. Questo saluto glielo mando con affetto, con amore e gli dico di andare avanti così e gli auguro tutto il bene e buona fortuna. Grazie a Samy Modiano, grazie a Lidia Maximovic, sappiamo che in questo contenitore c'è il libro che porterai domani a... Lo vuoi aprire? C'è il libro che porterai domani a... Ah, eccolo qui, perfetto, sì, a Papa Francesco che ha scritto la prefazione e vorrei ricordare una cosa che ha detto ieri Liana Segre che peraltro scrive anche nella prefazione, fa anche un'altra prefazione del tuo racconto, del tuo libro. Liana Segre ieri votando per la elezione del Presidente della Repubblica ha detto una cosa molto bella. Io che sono stata reietta, sono stata costretta a fuggire, perseguitata, senza colpa, la vita è così bella che oggi da vecchia, ho usato proprio questo termine, sono qui a votare il nuovo Presidente della Repubblica. e questo vuol dire che c'è sempre un riscatto per tutti, c'è sempre una possibilità per tutti, c'è sempre la possibilità di avere giustizia. Basta però non dimenticare. Grazie Lidia per essere stata con noi.